Sì, certo, sono felicissimo di poter restare un altro anno qua a Monza e mi sono trovato benissimo con la squadra, si lavora molto bene con i compagni sia fuori che dentro il palazzetto e quindi sono davvero contento di rimanere un altro anno qua a Monza. Allora per me questa sarà una stagione importantissima perché finalmente posso mettere in mostra quello che ho sempre fatto negli allenamenti e al palazzetto e quindi non vedo l'ora ancora di più di riniziare a tornare in campo. Sicuramente saremo una squadra giovane ma anche una squadra che avrà tanta voglia di allenarsi e avrà tanto coraggio anche nei momenti più importanti e difficili. Ringrazio la società e ringrazio i tifosi e spero che questa situazione finisca presto così da poterci vedere il prima possibile tutti insieme al palazzetto.